Ciao, io mi chiamo Virginia Nazaro. Frequento la prima F e adesso leggo una favoletta. Se dai un biscotto a un antopo, il antopo ti chiederà un bicchiere di latte e quando gli darai il latte, ti chiederà una cannuccia. Quando avrà finito il latte, ti chiederà un tovagliolo. Poi vorrà guardarsi allo specchio per controllare di non avere i baffi sporchi di latte. Potrebbe accorgersi che i suoi capelli hanno bisogno di una spuntatina. Quindi ti chiederà un paio di forbicine. Ciao!